Cari membri, quanto più bravi saremo sul fronte dell'energia, tanto più forte sarà la nostra posizione socio-economica. Dobbiamo poi tutelare le famiglie più vulnerabili e le aziende. Non sarà possibile proteggere tutti dalle conseguenze economiche della guerra, però il settore pubblico deve proteggere quelli più esposti a questo innalzamento dei prezzi. Soprattutto questo vuol dire dare sostegno al reddito, coloro il cui potere d'acquisto è messo in difficoltà. Per raggiungere questo il nostro sostegno deve essere mirato su vari fronti, soprattutto ridurre i consumi. Ad esempio pensare ad un tetto massimo, dimostrare solidarietà a certi settori per far sì che gli stati membri possano utilizzare i proventi degli extra profitti verso coloro che hanno più bisogno di aiuto. Dare sostegno a pioggia a tutti non sarebbe una buona idea perché farebbe aumentare l'inflazione, farebbe aumentare ancora di più i prezzi e forse indebolirebbe l'economia. La BCE sta facendo il proprio ruolo per contenere l'inflazione e l'Unione Europea e gli stati membri devono però anche fare la loro parte. Le politiche di bilancio e monetarie devono essere coordinate.